In vista delle elezioni amministrative 2016 e in attesa che siano ufficializzati i nomi di tutti i candidati sindaco, abbiamo deciso di gustarci un buon caffè al bar assieme agli aspiranti primo cittadino per affrontare temi di autorità, cronaca, economia e cultura. Il caffè questa mattina lo abbiamo sorteggiato con Maurizio Bucci, candidato sindaco della lista civica La Pigna. Caffè dolce o caffè amaro? Parlare di sicurezza e di lotta al degrado nella città di Ravenna? Beh, sicuramente per come è stata gestita la sicurezza e per come è visibile da parte dei cittadini ravennati e anche dei turisti la situazione del degrado nel quale è afflitta la nostra città non può essere altro che un caffè amaro. Il caffè dolce è il fatto di pensare che tra alcuni mesi le amministrative potranno dare l'opportunità ai cittadini ravennati col proprio voto di esprimere di fatto una volontà di forte cambiamento. Perché dico questo? Perché nei dieci anni di giunta Matteucci sul piano della sicurezza che è uno dei punti fondamentali non solo perché è percepito dai nostri cittadini con forte apprensione, ormai non si è più sicuri nelle proprie case non si è più sicuri nelle proprie attività e in questo decennio non vi sono state azioni o operazioni tali che abbiano potuto dare un segnale di cambiamento e di inversione di rotta da parte di questa amministrazione. Sappiamo di realtà come ad esempio il comune di Trento che con iniziative specifiche sono riusciti a garantire una maggiore sicurezza, una maggiore tutela dei propri cittadini e delle proprie aziende. Quella del degrado è un'attenzione che deve essere maggiore in tutto quello che è la gestione del pubblico, soprattutto quello che è la fruizione e l'attenzione anche dei piccoli, dei luoghi che non sono particolarmente frequentati e che non hanno quegli accessi come avviene invece nei luoghi di maggiore attrazione e maggiore attenzione. Dobbiamo riprendere in mano il concetto di sicurezza ma riprendere in mano in modo deciso, concreto e non come è stato fatto in tutto questo periodo di giunta Matteucci. Caffè dolce o caffè amaro? Il fatto che a metà febbraio 2016 si sia arrivati ad un ulteriore nuovo nome di un candidato che correrà per la poltrona di sindaco a giugno. E' stato ufficializzato il nome di Alberghini per Ravenna e Legano. Il caffè dolce è sicuramente per tutta la collettività ravennati che vi sarà un altro candidato a poter esporre il proprio progetto di città, le proprie idee di rinnovamento e di cambiamento. E' chiaramente una indicazione che va in antitesi e in contrasto rispetto a quella del Partito Democratico quindi noi l'accogliamo positivamente perché è positivo che ci siano più voci, ci sia un dibattito franco e aperto su quella che è una visione diversa di città. Alberghini lo farà con i partiti tradizionali, la nostra scelta è molto civica. Il fatto che io vengo da un'appartenenza politica e abbia fatto la scelta invece di dar vita a una lista civica trasversale, nuova, con idee, con progetti e che sia veramente di forte discontinuità è una scelta diversa rispetto a quella che ha fatto Alberghini che è candidato delle liste e dei partiti diciamo tradizionali nell'arco nazionale. Il caffè amaro non è il mio nel senso che io l'ho bevuto da parecchi anni perché da parecchi anni che faccio politica il caffè amaro a questo punto se li inizierà a bere Alberghini perché come si può dire i cavoli amari non solo i caffè arriveranno per lui. Tra l'altro è in una coalizione abbastanza impegnativa perché sappiamo bene che fare il candidato sindaco per una lista con Alvaro Uncisi e Gianluca Pini non sarà una vita facile. Sotto questo aspetto il mio caffè è molto più dolce quindi benvenuto all'amico Alberghini che penso di conoscere anche di famiglia e quindi penso che sia un percorso positivo, è una persona che porterà un contributo valido ed è sicuramente apprezzato che ci sia oggi qualcuno della società civile come anche il sottoscritto perché veniamo tutti dalla società civile cioè noi lavoriamo, facciamo della nostra professione la nostra forza e vogliamo portare un contributo attivo e vivo alla politica ravernata. Quindi benvenga all'amico Alberghini, oggi sei a tutti gli effetti, onori ed oneri che la politica e la passione politica porta ad ognuno di noi quando decidiamo di fare un passo.